Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Allora, prima di iniziare vi ricordiamo di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, questa è la nuova rubrica Keep or Sell, vi ringraziamo un sacco perché la prima puntata è andata molto bene e abbiamo ricevuto già un sacco di richieste, quindi vi faccio un altro video. Allora, non saranno propriamente delle pills queste, anche se potrebbero uscire in qualunque degli slot, perché comunque parlare anche solo di tre carte diventa lungo se vuoi parlarne decentemente. Niente, vi ringraziamo, vi ricordiamo anche come funziona il format Keep or Sell, dovete scriverlo in un commento sotto qualsiasi video dei nostri, scrivendo Keep or Sell e poi il nome della carta e anche la versione sarebbe l'ideale, anche la lingua, quello che potete. Più informazioni ci date e più possiamo essere precisi. Allora, ringraziamo Sanj, uno dei nostri follower iscritti che ci segue di più, quindi lo ringraziamo tantissimo, e ci ha chiesto Unset Copper versione 2. Allora, è questa qua, per adesso ci sono veramente poche poche copie, il prezzo è sui 29€. Allora, la carta è molto limitata perché è da commander e soprattutto da commander multiplayer, tendenzialmente in 1v1 non è una gran carta, secondo me. Ci può stare che qualche lista poi la possa giocare, ma sinceramente in 1v1 preferisco poter scombare con il drago blu che mi fa pescare, oppure col drago nero che è di anima, per dire. Mettere solo i treasure in 1v1 può non essere troppo troppo forte. Adesso mi sta venendo in mente forse qualche 5 colori draghi, Tiamat, eccetera, potrebbe magari, però vediamo. Comunque, il prezzo della carta è congruo, allora, per adesso, cioè io la venderei anche a 25€, sono sincero, se questa versione qua in questo momento, anche se ti offrissero 25€, li venderei, scusate. Il rischio che possa scendere un po' c'è, il set magari non verrà aperto in maniera incredibile, e quindi comunque le copie non saranno così tante. Quindi il mio consiglio è di vendere, se riesci a vendere a 30€, vendi tranquillamente. Se poi la carta sale a 40€, 45€, secondo me non ti devi dispiacere, perché queste sono un tipo di carte molto limitate e al prezzo di 30€, che non è poco, ci sta a vendere. Magari arrivano a 40€, 45€, ma dopo un anno e mezzo, quindi tanto, tanto tempo. Quindi, sell, aspetta, eccolo qua. Alla carta che abbiamo deciso che equivale a se... Poi, seconda carta, Alessio ci ha chiesto, Liliana Dreadhord, in versione alternativa, credo che si riferisse a questa, adesso mi sta venendo il dubbio, ma sono praticamente sicuro. Allora, questa è una versione disegnata da uno dei disegnatori di Final Fantasy, se non sbaglio, e questo le dà un'iconicità incredibile. Parere mio personale, a me non fa impazzire neanche l'arte della carta. Però è un parere mio personale. In realtà piace molto, infatti sono rimaste solo 40 copie della versione regular. Allora, come giocabilità, bassa, neanche media, secondo me più bassa che media, però c'è. Cioè non è una carta unplayable, assolutamente. Si può giocare, la carta comunque ha un costo molto elevato, ma l'effetto è molto forte. Quindi, comunque si può giocare. Il valore della carta di questa versione è data, ripeto, dal collezionismo, e secondo me, date tutte queste informazioni, la carta può solo salire. Ci sono 40 copie, non vedo perché dovrebbero essercene di più andando avanti nel tempo, anzi, secondo me ce ne saranno meno. Quindi potrebbe arrivare a prezzi veramente alti. Mi aspetto che potrebbe arrivare anche al doppio nel giro di qualche tempo. Guardate adesso, c'è una copia 180, poi una già 200, una 210, una 220, cioè si va a botte di 10, 20, 15 euro ogni copia. Quindi, c'è il prezzo realistico, siamo già sui 240, come prezzo realistico. Perché i primi, da alcuni non ti fa comprare, da altri non hanno feedback. Quindi, se vuoi comprare da un utente verificato, 220, 240, quindi siamo già a un prezzo alto. Ma secondo me potrebbe salire, quindi per me, keep. Quindi, il keeper of the accord. Eccolo qua. E poi, l'ultima carta, ce la chiede Skyf, anche lui, grande, grande appassionato del canale, lo ringraziamo. Ringraziamo, arigato. E ci chiede, Iorion, versione alternativa, foil giappo. Quindi, questa versione qua, ce ne sono solo tre, e stanno a 70 euro. Allora, la carta è giocata, tanto la richiesta per la carta c'è. Questa è una versione particolare, assolutamente sì. Ha tanto mercato? No, è una nicchia. Però anche le copie disponibili sono poche. Il mercato che può richiedere questa carta è più grosso delle copie disponibili, in questo momento, su MKM? Sì, per me sì. E magari non tutti sono disposti a pagare 70 euro, ma qualcuno c'è. Allora, si gioca in Modern, si può giocare in, assolutamente si gioca in Pioneer. Si può giocare un po' ovunque. E, tra l'altro, è una carta decente anche in qualche deck in Commander. Cioè, se noi giochiamo un deck con tanti coming to play, eccetera, possiamo anche giocare tranquillamente dentro. C'è un 4-5 che blinka tutti i permanenti, è forte, tutti i permanenti on-terra, quindi non è male. Quindi è una giocabilità alta, anche se in poche copie. Il prezzo è 70 euro. Per me, per il momento attuale che vedo, e per l'espansione in cui è stato stampato Iorion, che i Coria, quindi un'espansione non più giovanissima, però ancora non è detto che venga ristampata a breve. Potrebbe passare ancora un annetto prima della ristampa di Iorion. Non lo possiamo sapere. Io questa carta la terrei ancora un po', per poi provarla a vendere a 80-85. Le copie sono poche, sono solo 52, e quindi io se hai pazienza e non hai bisogno di soldi, la terrei. Ovviamente, calcolando sempre il rischio delle ristampe, bla 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 bla. Possibili ban non credo, quindi la giocabilità è buona. Quindi Iorion, per ora, keep. Ecco qua. Allora, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se volete partecipare a questo format, con la carta o il mazzo o il prodotto chiuso di cui volete che parliamo. E niente, spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao ragazzi!